L'Acquameno, un anfiteatro naturale che si apre sul mare. Benché sia tra i più piccoli comuni dell'isola d'Ischia, occupa un posto privilegiato con la sua baia di San Montano, racchiusa come una conchiglia tra Monte Vico e Monte Zaro. L'Acquameno ha una doppia personalità, raffinata e rustica allo stesso tempo. In nessuna parte del mondo convivono con sublime armonia il viver semplice e il mondo raffinato. Suggestivo il suo fungo, una formazione di tuffo precipitata dal Monte Pomeo durante un'antica eruzione e scolpito dall'acqua e dal vento, che dà al visitatore il primo saluto. Dalle pendici montuose al mare si distendono bianche case, suggestive chiesette, palazzi settecenteschi che si affacciano sul litorale, alberghi modernissimi e di gran lusso. E poi il Monte Vico con l'antica torre aragonese, le strade alberate, i negozi di prestigio. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.